Negli studi di The Boat Show abbiamo Gianguido Girotti, la sua formazione è di yacht designer, infatti ha cominciato a lavorare nello studio di German Fraers, poi è stato nei cantieri del Pardo, nei cantieri Dufour e approdato nel grande gruppo Benetò, di cui è direttore generale. La visione di Gianguido sulla nautica da Diporto è molto lucida, molto concreta, come lo è il gruppo per cui lavora. Gianguido, sicuramente hai cominciato per passione, ma è ancora divertente costruire barche, il mestiere delle barche, a questo livello? È molto divertente, è decisamente più complesso di quando ho iniziato, effettivamente, però credo di avere la fortuna nella vita, di aver coniugato questa passione che non mi lascia, mista la mia curiosità, che è un po' forse una delle mie caratteristiche, che quindi mi fa sempre piacere tantissimo quello che faccio e continuare a vivere intensamente ogni giorno. Senti, guarda che cosa ti ho trovato qui, due miti messi insieme. Assolutamente sì. Madame Roux e la Coppa America e lì c'è anche la Louis Vuitton Cup. Madame per me è una madre di business, diciamo così, nel senso che la mia vicissitudine per come sono entrato al gruppo è stata un po' particolare, perché dovevo entrare in un marchio che è Prestige di motore, la vela di Beneteau era un po' sottotono in quegli anni, non volevo assolutamente occuparmi di questa cosa e lei fece sì che durante un salone di Parigi, era il 2014, mi invitò nel suo ufficio privato che aveva dentro lo stand Beneteau e mi fece un'intervista dicendo tanto tu lavorerai in Prestige, però avrai bisogno di sapere qualcosa di Beneteau, cosa ne pensi e in 5 minuti mi fece un colloquio e mi disse perfetto, tu non lavorerai per Prestige, devo firmare il giorno stesso con dei risorsi umani, ma secondo me tu lavorerai per Beneteau e andrai avanti dentro il gruppo senza problemi. Di lì a un mese dopo mi fece effettivamente l'ho proposta e dal di lì ho avuto grandissima fiducia, cioè penso che Madame Roux almeno nei miei confronti abbia sempre manifestato quello che è un po' il sogno, cioè avere un imprenditore visionario ma che lascia fare le generazioni successive ed è una grande qualità. E dal punto di vista del prodotto che cosa vi trasmette? Considera che lei quando tu la prima domanda che hai fatto ti piace ancora costruire, lei è nata come costruttore quindi ha comunque una grandissima consapevolezza, mi ricordo la prima volta che presentai, noi abbiamo, ogni prodotto viene presentato in forma di un brief, cioè che è una presentazione comunque dettagliata con il top management che valida e lei alle prime presentazioni partecipava in maniera molto attiva, mi faceva delle domande estremamente puntuali, cioè come quasi essere stata un'allieva di un frere col quale ho lavorato, cioè una persona che conosce i principi attraverso i quali poi puoi avere un prodotto di successo o meno. D'altra parte ne ha fatti a decine se non a centinaia. Senti la Coppa America, cosa ti racconta? Coppa America, allora personalmente due cose penso, nel 92, i tempi del Moro, è stata proprio quella spinta totale che mi ha fatto trasformare il ragazzino che faceva 4 eventi, che faceva le regate agonistiche in, io voglio trasformare questa cosa nel mio lavoro ed era lì che nacque il mito di Frere, perché era il progettista e per me era un mito assoluto. In più che cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato secondo me due cose che sono fortissime, il rispetto dei tempi, cioè avere una deadline, essere il più preparato possibile per quel giorno, ed è una cosa, il famoso miglioramento continuo di cui si parla in azienda tante volte, per me la Coppa America è l'esasperazione di questa cosa, e la coordinazione di un lavoro di squadra, cioè ognuno fa parte di un team, non ci sono agende separate, tant'è vero che secondo me i team che hanno sempre vinto, hanno vinto come team e non come il fenomeno. Assolutamente, parliamo di vela, poi parleremo anche di motore, siete il marchio più importante, forse non quello più ricordato dalla gente, ma sicuramente avete dato un'impronta formidabile a tutto il mondo della vela. Che cosa succederà? Che cosa sta succedendo? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo alcune idee? Questa barca per me ha portato certe innovazioni, tipo il passaggio completamente ripulito a poppa, per permettere di avere una circolazione sui passi avanti assolutamente protetta. Se cominciamo a guardare questa barca e alcune barche a motore, cominciamo a vedere che ci sono in alcune aree delle barche a motore che diventano più barche a vela e delle barche a vela che prendono degli elementi di sicurezza, come in questo caso il passavanti più profondo e quindi molto più sicuro, delle barche a motore. Credo che il futuro ci aspetti una rivoluzione, diciamo, di piattaforma. Cioè domani le barche verranno sviluppate come un concentrato di tecnologie attraverso quella che io chiamo la power unit e tutta la power unit gestirà fondamentalmente la barca. E il secondo elemento credo che ci sia una evoluzione dell'utilizzatore che diventa sempre più preciso nel suo obiettivo e quindi meno generalista e si andrà verso dei prodotti ancora più specifici adatti al tipo di utilizzo, piuttosto che dire che questa è una barca a vela che deve fare da 0 a 1500 miglia e quindi poco ancora definito il vero obiettivo, il vero scopo. Senti qui c'è la storia di Wall-E, hai pronunciato la parola innovazione che suggestioni ti dà il marchio Wall-E? Innanzitutto ho avuto la possibilità di partecipare a qualche progetto appunto quando lavoravo da German e da Mani. La parola innovazione l'hanno veramente portata e hanno credo distrutto i cardini storici bene e in maniera positiva portando la vera comprensione del bisogno dell'armatore e non la vera comprensione del bisogno del cantiere. Quindi siccome è la vera innovazione che ha fatto Wall-E è quella che chiamiamo noi oggi la customer centristi, cioè cercare di mettere veramente l'ottimizzatore al centro e di capire come disegni il prodotto adatto all'utilizzatore e non il contrario. Forse qualcosa ci hai detto che c'è una contaminazione tra vele e motore e viceversa. Qui cosa troviamo? Questo è quello che abbiamo chiamato, ribattezzato, cioè real estate on the water. Non è più il concetto classico del flybridge che tutti conosciamo in Italia, ci sono marchi i più famosi al mondo. È una barca che porta un'estensione del pozzetto, quindi della zona vivibile a poppa, superiore del 40-50% rispetto a una barca normale e in più questa ha il full beam come struttura, quindi quando si va dentro lo spazio a bordo ha preso una dimensione completamente diversa con la possibilità di aprire completamente le vetrate e quindi creare questa vita a bordo in completa armonia tra l'interno e l'esterno. E questo mi pare che sia uno dei progetti più nascosti forse o più. Sono estremamente fiero di questo progetto perché è il piccolo marchio Delfia che abbiamo avuto la possibilità di ricostruire da zero, cioè abbiamo acquisito i cantieri perché mancavamo di capacità produttiva e loro avevano anche un marchio ma poco definito. Abbiamo deciso che ci sono più di 50.000 chilometri navigabili solo in Europa e quasi il doppio negli Stati Uniti e Canada e quindi c'è tutto un segmento di accesso all'acqua completamente scollegato rispetto ai nostri bacini classici che è l'acqua di mare che permette di avvicinare le persone comunque a un tipo di vacanza completamente diversa più inland water cruising si chiama e ha il vantaggio che secondo il mio modesto parere ma lo stiamo portando avanti proprio anche come filosofia saranno i primi a integrare completamente l'elettrico quindi 100% elettrico con zone completamente ricaricabili quindi ha impatti completamente inferiori anche perché sono barche dislocanti che navigano a 5 nodi. Ma è giusto dire che un gruppo grande come il vostro ha un vantaggio in queste, chiamiamole, sperimentazioni o comunque nell'apertura di queste nuove strade produttive? Esattamente, è così, cerchiamo di avere dei marchi che sono dei leader e cercano di avere la loro posizione sul mercato storica ed altri che sono dei challenger che cercano di testare tecnologie qui testeremo anche l'utilizzo di altre fibre, materiali quindi c'è proprio una specie di laboratorio all'interno del marchio stesso come una start-up quasi deve essere piuttosto che un mastodonte da svariate centinaia di milioni. Cosa abbiamo qua? Orca, è un grande! Mi piacerebbe vedere il più matto di tutti Giuliani Ricci Il più matto di tutti ma il più genio di tutti cioè Diciamo agli ascoltatori Giuseppe Giuliani Ricci è il fondatore del Cantiere del Pardo aveva poi ripreso dopo la vendita del Pardo Solaris rilanciando secondo me in maniera eccellente Solaris nel mondo della vela è il più forte di tutti anche perché è l'unico che non l'ho mai visto mettere piedi a bordo di una barca cioè intervistava tutti una volta che uscivano ma non metteva piedi a bordo è stato comunque, secondo me è un grande della nautica perché ha capito tante volte che cosa il cliente voleva Ecco, guarda, qui c'è il suo Grand Sole 34 che diciamo ha fatto entrare la nautica e la vela forse in una dimensione moderna, tra virgolette Assolutamente Fino a quel punto lì la comunicazione, i marchi erano tutti un po' confusi ho scelto questa pagina perché è una pagina pubblicitaria quando mia figlia bambina trovava una pagina così diceva papi ma è tutto scritto e adesso tutto scritto non lo fa più nessuno c'è un'immagine e basta invece lì c'è tutto un racconto C'era più tempo anche per leggere Era più tempo C'era più tempo per leggere però fondamentalmente se leggi quel testo capisci esattamente che cosa cercava di trasmettere in una piccola pagina pubblicitaria cioè il primo connubrio tra il piacere di navigare e comunque il comfort a bordo che poi ha creato negli anni successo del Gran Sole 34 cioè una barca mitica È vero che ancora viene ricordata E qui entriamo in un altro momento a parte quella G che sembra la tua barca Esatto, infatti ero là e mi ricordo ancora come mia moglie Vabbè qui ci sono due elementi di cui un pochino discutere il Marchio, Monte Carlo che mi pare non stiate più tanto spingendo e l'evento, la grande festa questo modo di comunicare tanto lontano dalla pagina pubblicitaria che abbiamo visto prima L'evento era un evento bellissimo perché era a Venezia che era uno dei miei posti preferiti dentro l'arsenale cioè quindi un contesto assolutamente magico Il Marchio l'abbiamo già comunicato cioè ci sono state una serie di decisioni di riposizionare il gruppo sul suo core business per ridurre la quantità di modelli e per cercare di ottimizzare gli investimenti che facevamo e per spingere segmenti dal potenziale di crescita più forte in base a quelle che poi sono le nostre capacità e forse il nostro footprint network di distribuzione anche per il resto i grandi eventi secondo me cambieranno molto ma ci saranno sempre nel senso che l'abbiamo visto quest'anno a Salone di Canna tutti pensavano che i saloni perché abbiamo tutti venduto tantissime barche senza Covid cioè durante il Covid senza saloni in realtà durante il salone il fatto stesso di poter ritrovarsi avere il piacere di scambiare e vedersi così ha ricreato comunque una dinamica che era completamente persa negli ultimi 18 mesi quello che si deve sviluppare oggi sono i marchi cioè l'idea di un brand e quindi con tutta la sua identità alcuni passano per degli eventi altri passano per delle esperienze diverse ma quello che bisogna assolutamente cercare di fare è uscire dal famoso mondo tra virgolette dei carrozzieri e diventare dei produttori un po' come nell'automotive dove oggi compri un marchio per tutta l'esperienza che ti può dare e tu ti ritrovi all'interno di quell'esperienza diciamo che la cosa più difficile all'interno del gruppo è avere delle barche che andavano da 5 metri a 32 metri come questo del 105 e far coesistere dei mondi estremamente diversi quindi è quella la vera complessità arriviamo al punto cos'è adesso il gruppo Benetton dopo la pandemia e dopo la cura dimagrante che avete fatto? io non ho perso ancora un chilo innanzitutto è un gruppo e lo dico con un certo orgoglio perché abbiamo lavorato come una squadra senza un'agenda personale o individuale fortunatamente come dicevo prima ho la chance di avere grandissima fiducia dell'azionista ed era anche il motivo per cui se no non sarei rimasto nella posizione che poi ricopro oggi e abbiamo cambiato tantissime cose tantissime cose molto probabilmente invisibili da fuori ma che all'interno stanno creando veramente un team che penso possa essere trascinatore soprattutto negli anni a venire perché al di là delle competenze cioè il gruppo Benetton secondo me ha delle competenze tecniche e industriali che sono note e una forza incredibile ma quando cominci a litigare o fai le piccole battaglie si implode abbiamo risettato ho avuto la chance di essere messo responsabile di tutti questi marchi quindi diventare un po' il giocatore ma anche l'arbitro e quindi è diventato tutto più gestibile c'è molta più armonia e stiamo facendo bene possiamo raccontare qualche numero della vostra dimensione? oggi siamo 8000 dipendenti quasi sfioriamo 10.000 barche all'anno abbiamo una ventina di siti produttivi in Portogallo, in Polonia, negli Stati Uniti, in Italia, in Francia tra Lavandet e Bordeaux e quello che stiamo cercando di fare è adattare la capacità produttiva e la tipologia di sviluppo in base alla tipologia di modelli che vengono poi sviluppati nei differenti siti senti qui c'è Cortomaltese di Ugo Pratt credo che anche tu da ragazzo abbia letto questi fumetti queste favole adesso si parla tanto di storytelling Ugo Pratt non era mai stato nei luoghi che descrive aveva la casa piena di portolani ed erano anche precise le sue descrizioni non è che ci manca questa favola per costruire nuovi appassionati come facciamo a trovare nuovi clienti senza raccontargli il mare? la vera soluzione di domani come dico sempre quando facciamo le nostre riunioni non è più pensare di vendere la settimana di affitto a chi sa già andare in barca ma pensare di vendere un ecosistema a vacanza dove fai anche tre giorni in barca perché la prima volta che ti affronti a una barca a vela non è che devi per forza stare dieci giorni senza applicare i piedi per terra e con un tipo di servizio accompagnamento diverso quindi eventualmente ci saranno skipper o una gestione tra la vita a terra e la vita in mare diversa perché quello può aprire completamente i nuovi orizzonti perché io tutte le persone nella mia vita che abbiamo avuto la possibilità di ospitare andando in barca o affittando barche insieme ma con dei neofiti poi si innamorano però devono avere l'esperto che gli toglie quel freno psicologico e qui parliamo un pochino di fuori bordo mi pare che sia un momento tan mercato esploso completamente esploso perché oggi ci sono alcuni produttori di motori che fanno più 200% motori fuori bordo se io avessi avuto 20% di produzione in più solo sulle 10.000 barche sarebbero state tranquillamente tutte vendute il post lockdown ha creato questa spinta a voler crearsi la propria isola la propria bolla felice, sicura, protetta accessibile perché comunque non sono barche né complicate più facili effettivamente rispetto a una barca a vela e abbordabili che permettono comunque di andare un po' a farti anche il weekend con la famiglia con la tua piccola cabina quello che è veramente incredibile è come la taglia media dei fuori bordo grazie alla tecnologia sta esplodendo e quindi c'è un accesso a barche sempre più grande e sempre più facili da gestire il fuori bordo per me è arrivato a capire prima di tutti gli altri che risolveva tantissimi problemi di non esperti nella gestione dell'accessibilità di una barca e oggi puoi avere barche fino a 14 metri completamente motorizzate fuori bordo che sono delle bombe perché quando poi le provi sono incredibili e dal punto di vista della gestione dell'armatore è molto più semplice Catamarani, un altro grande settore di sviluppo mi pare che... Catamarani è da più di dieci anni che come il fuori bordo che cresce in maniera sistematica a doppia cifra e come tutti pensavano cioè noi in primis Covid erano barche che pensavamo andassero solo ai charter in realtà la domanda è continuata anche perché quelli che non la mettevano a charter hanno deciso dopo il Covid di ripartire e farsi un anno sabbatico e questi oggetti in realtà sono il mezzo perfetto per poter fare il giro del mondo tutto ricordandosi che un giro del mondo fondamentalmente perché l'ho scoperto intervistando i vari armatori è 20% navigazione, 80% rada nei posti più incredibili è una casa che si muove con delle vele ecco e siamo arrivati al foiling allo sport Benetton è sempre stata presente con i monotipi, con tante cose ci sarà qualcosa di nuovo nel futuro di questo? stiamo pensando a varie cose penso che questo è stato un progetto comunque estremamente complesso cioè per averlo gestito in prima persona perché era il 2017 e quando ti trovi con 70 armatori che sono dei migliori skipper al mondo perché avevamo Michel Desjoiello tutta l'equipe di Bank Populaire cioè i migliori al mondo Charlie Dallant tutti venivano e testavano e davano anche la loro opinione sul progetto quindi è stato estremamente formativo perché lavori veramente con i migliori mi è piaciuto tantissimo perché è un po' come tornare alla Coppa America ma sull'offshore capisci fondamentalmente le problematiche che hanno e l'obiettivo di un monotipo di questo livello qui portato dai super skipper era di far partire 50 o 60 barche di farne arrivare 60 senti, introduci un po' la parola sostenibilità che sicuramente per un cantiere come il vostro diventa, è uno dei temi da risolvere è uno dei temi principali su cui lavoriamo perché innanzitutto siamo molto consapevoli di quello che facciamo siamo una cotata in borsa dove penso che non c'è nessun altro o pochissimi altri cantieri che controllano il livello di consumi il livello di impatto CO2 su tutta la sua filiera abbiamo certificati praticamente tutti i capannoni in tutti gli stabilimenti eccetto l'unico ma che dobbiamo certificare l'ultimo che è quello in Portogallo e quindi c'è una grande attenzione di Madame Roux a partire dall'azionista quindi verso la sostenibilità la vera svolta secondo me sarà domani quali sono le tecnologie che ci permetteranno a livello di resin, a livello di fibre future a ancora una volta in più ridurre l'impatto essere 100% reciclati e reciclabili quindi ci sarà anche un processo di costruzione delle barche ma noi stiamo già testando cioè il gruppo Veneto abbiamo una parte R&D cioè di ricerca e sviluppo che è proprio dedicata a testare nuovi materiali e prima ancora di cioè non è che possiamo permetterci di mettere su un oceanis come vedevamo prima una tecnologia della quale non siamo assolutamente sicuri perché quando fai 200 barche poi trovi 200 clienti che o rischiano la vita o possono avere dei problemi di qualità quindi l'innovazione è un percorso che fai con i tuoi fornitori tanto è vero che la vera evoluzione secondo me di domani è come ci si strutturerà assieme ai fornitori per creare quello che dicevo prima delle piattaforme senti questo è un altro libro sulle gollette da pesca americane molto affascinante molto spesso le consideriamo un po' le madri delle barche da riporto o comunque delle barche con delle prestazioni un po' assolute che relazione continuiamo ad avere con la navigazione e le barche un po' assolute? ce n'è più di quanto noi pensiamo io penso che c'è una differenza culturale lo dico adesso dopo qualche anno tra l'approccio francese e l'approccio italiano non ho conoscenza di armatori italiani che con un 31.7 si sono fatti il giro del mondo il 31.7 è una barca che ha 15 anni, 20 anni oh casa casa cosa ti porti dietro di casa del nostro Adriatico? ah tantissimo tantissimo perché sono nato che avevo avevamo già una barca al circolo nautico cesenatico quindi questo è il canale cesenatico con le famose barche museo e feci la prima attraversata per andare nella vecchia Jugoslavia con mio papà e mia nonna ancora avevo 4 anni la prima attraversata dove rimasi sveglio per una gran parte della attraversata perché i tempi si partiva di notte perché si arrivava di giorno perché di là non c'erano i fari facevamo un mese in barca tutta la famiglia ed era incredibile perché conoscevamo praticamente tutte le rocce ed è quella che era la Vex Jugoslavia oggi tra Croazia e ci siamo divertiti tantissimo con i miei fratelli è un'esperienza magica e così al timone riesci ad andare in barca? allora diciamo che ultimamente ho fatto un po' più fatica perché ogni volta che c'è stato da quando sono stato rinominato nel 2000 siamo riusciti ad andare in vacanza ancora nel 2019 insieme e poi il covid la riorganizzazione aziendale i cyber attack ci hanno un po' preso tempo in più non è stato veramente accessibile più per me perché poi ho anche cambiato casa ultimamente adesso il progetto barca nella nuova vita a Saint-Gilles è un progetto molto più ricorrente a livello di famiglia perché stiamo decidendo e diventa molto più difficile in questo momento nel momento in cui abbiamo detto ok adesso lo dobbiamo fare quale barca? adesso vedremo intanto i primi passi come evolvono e come riesco a coinvolgere la famiglia perché per ora siamo veramente solo andati in vacanza in barca ma facendo delle settimane non possedendola quindi vivendola diversamente perché è un po' quello il vero piacere di averla attaccata a casa perché effettivamente viviamo sul porto grazie a tutti